ma dove stanno? ma io ma chi sono? ma non c'è fuori tiro però io non ho più è pure in i tank i tank e band tiro i tank e band vabbè ma pure in scordi normali si può volare non lo so lago vedete? si vabbè giù veramente giù sentiamo qua tutto il lago si si può volare è la prima giaulata si si può volare vabbè giù andiamo alla pietra lunare ci prendiamo una pietra ombra vediamo pure se c'è qualche cesta c'è un badoo sto manco il pascolo con te vediamo pure se c'è qualche cesta non c'è un badoo eh giù non ci mettiamo a uno è che non è scambito non è una città eh che schifo chi vuole una città ah gi 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 vieni vado qualche agente non mi sono a terra non l'ho finito adesso teneva anche in evinjenze ma tu dalle vado a scambi eh si e quale scambi come? calamiti quella l'hai valuta oppure la normale? è valuta seconda terza quale? la terza oggi con il corno non mi è inizionato pompa si io 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 tu mi resta il dono si ho scambiato ho scambiato scambiato a me non ho scambiato ho scambiato i colti ho scambiato i colti lo vuole qualcuno? no ah buio la scambiata oh la non ha un po' sei spaccato nella qui occo è stata è stata 52 vaga me l'ha lasciata a me non mi è non mi è non mi è l'ho ma che sei mesi una fattata è proprio tutto davvero non mi è no vado 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 stai facendo ancora la live? si tu stai sparando a sergiando sergi hai avuto i tasti no mi dai il calibro va bene ma sergi hai avuto i tasti stai sparando a mezz'ora a sergiando si si oh ragazzi colpi pompa ma io voglio usciano una usciata dove calmo pare eccolo mi dai colpi pompa stanno da me giro non adesso per morire oggi tengo il tavolo vieni vieni in safe vieni in safe e te li animiamo non ho ragazzo mentre mi cecchino mamma mi giro non ho mai fatto te l'ho detto se non c'è se non c'è una macchina guardate la mia macchina non c'è una macchina e' una macchina ora c'è solo di uno e' una macchina e' una macchina Io te li ho dati. Te ne posso lasciare solo uno perché... No, io dove stanno? Boh, te ne ho incallato, andando da ingassare. Forse te li ho lasciati fuori safe. Mi sa. Vabbè, vabbè. Te li tiriamo. L'hai presi adesso? Sì. Ok. Aiuto a ingassare, andiamo a piazzare la giamba. Qua giù ci sta... Non siamo tutti i gaffi là. Ah no, vabbè, andiamo a piazzare la giamba. Vabbè, non a piazzare la giamba. Possiamo volare normalmente. Vabbè, saci, andiamo a tenere l'onda. Non ti preoccupare. Ah, vabbè, se ne vieni tu, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vabbè. Sì. Voglio chiestare una costante la montagna. Guarda, sono una costante la scala. Adesso la costante la scala. Ma non ti faccia aggiungere il record su parte precede. Vi lasciate la scala. Il mio record è 14. Il mio record è 14, però se la potessi farlo Ma chi si è mescolato? Non so, ma anche chi si può mescolare? Guardi, guardi, io ne ho paura, a un po' da montagna a nord est Perché stanno amici Guardi, piace un pallone, tengo un pallone Ci serve a tutto quanto Mi tengo il pallone con il pallone Guardi, stai facendo un pallone Guardi, costruite sempre Wow, c'è tutto vao. C'è un'gata un'unica. Oh, c'è un'unica. C'è un'unica. C'è un'unica. Guardi, hai colettato. Eh, vai giù. Ora vede subito, ora vede subito. Sto volendo. No! Mamma mia. Che secchi. Maron. Credo che è stata trap. Ha una piazza dove non è issa. Ciro l'ha ucciso quell'altro. Si. Ora capisco che c'è stato un'unica. Ciro, facciamoci un'unica. Devi? Ma Ciro c'è stato fatto. Facciamoci un'unica. Un'unica. Lui, guarda che c'è. Bella. Ti dà raggi. Eh, lui c'è bravo. Oddio, non è uscito ancora. Ah, sì. Oddio, se no, sai dove conviene giù. Giro, giro qua, non ho scelto. Ma vi stavi. Andate... Sulla... Sulla cosa dei vitinghi. Anche, è vero. Perché sento degli spari là sopra. No, no. Stanno qua in tuo campo. Ci sono. Sono i tati, mi sa. Mi sa. Mi sa. E sto qua. Sulla. La partina è oniglio. E' una vittoria. Ok, ragazzi, è bellissimo. E' un lanciaranzi. Un lanciaranzi. Ma Ciro ma alto. Non mi ha accaduto. Alla finchia. Alla finchia , ma mia. Non puoi trovare. Ma, puoi piacere, gioco record. Terra. i domani non mi sono bene tutto 2 di 1 ma fai che peso se avete trappole trovate d'anguicin non mi fai che peso tanto se ci rompe facciamo la che peso torre grande e sky base ok? ti lascio i cildini qua ci proviamo di blindato stai un ciocchino ok tieni gli cildini 2 cildini tiro di blindato non mirare però senza mirare fatti un fortino alto e poi faccio il maschio e base ehi prende Gigi ti lo ottiene materiale sì ma tu lo sai no? che moriamo adesso ci vediamo che mi ha fatto avvicine il fortino su buonaniense guarda 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 tu hai fatto avvicine il fortino forse per portarlo dobbiamo andiamo a più alti possibili quando mi accadevo era gestoso popolo appunto quando il volo da nido agli ultimi quando non ti ho? io fai l'oro non lo prendo proprio che ti ho? niente mamma ah tu lo metti e perchè allora finisci quando non ti ho detto no 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 ti ho detto che fai l'oro oggi ho barbicato in coppia sennò chi lo fa il tuo materiale come stai messi io? eh non tengo una vicenda non tengo una vicenda ma tu la voglio fare no 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 io sono inutile i piramidi no sono le contanti che facciamo le piramidi ma ce l'hai ancora il lanciarazzi? io no no ma no non lo distruggevano io che cosa? ma va non mi distrugge se lo vedi non lo uccidere subito mi dici prima se è scherzo o forte e se è scherzo e se è scherzo allora dici no lui non li contanti ai materiali se lo è scherzo è nab è nab è nab no 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 ballateci ballateci bound la o ù vedi lui c'è Gesanghi ho ma che Giorgia un mommé bella raga Oh, 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 oh.